No, le paleoliche sono un pugno in un occhio, in uno dei paesaggi più belli al mondo. E togliere terreno agricolo, togliere campi, togliere verde per mettere i pannelli a terra è una roba che non si può vedere. Ci sono al mondo 440 centrali nucleari, il nucleare di ultima generazione non produce scorie ed è quello più sicuro al mondo, col minor numero di incidenti e di problemi. La vicina Francia ha 56 centrali, noi compriamo la luce dalla Francia e paghiamo la luce più cara della Francia, ovviamente. Quindi io rispetto a una pala eolica che mi distrugge il paesaggio sull'Appennino o nelle campagne preferisco una centrale sicura.